Nel 1979 Madre Teresa di Calcutta riceveva il premio Nobel per la pace. Perché? Perché la lotta contro la povertà e la miseria è una condizione per la pace. Povertà e miseria minacciano costantemente la pace nel mondo e, d'altra parte, se l'80% della popolazione mondiale vive di stenti e il 20% si consuma quasi tutti i beni della terra come può esserci giustizia nel mondo e senza giustizia come può esserci effettivamente pace. Ma la cosa più strabiliante fu la risposta di Madre Teresa di Calcutta alla domanda perché amasse così tanto i poveri? Madre Teresa rispose io in verità non amo i poveri, amo Gesù Cristo. Che profondità teologica oltre che mistica? Cioè vedere nei poveri il Cristo è la condizione per amarli davvero. I poveri loro non si sconcertano perché sanno che finché Madre Teresa amerà Gesù Cristo starà accanto a loro, ricercherà i poveri tra i più poveri. Ecco che cos'è la carità cristiana. La carità cristiana è vedere nel nudo, nel senza tetto, nell'affamato, nel disperato, nello scartato, in colui che viene così estromesso dalle relazioni sociali, ordinarie, vedere Gesù Cristo e soccorrerlo per questo. Non è dunque umanitarismo, umanitarismo sociologico, quello che Papa Francesco continuamente ci insiste a vivere, insiste che viviamo nella nostra fede cristiana. Non è umanitarismo sociologico o addirittura ateologico, ma è precisamente umanesimo teologico, quella che con le parole di Madre Teresa di Calcutta adesso hai sicuramente capito.